Facciamoci consapevolmente artefici del nostro futuro perché possa essere se non felicissimo almeno un po' felici. Dipende soltanto da noi e dalla serietà del nostro impegno. Sara Mariano Rigillo, il nuovo direttore della Scuola di Teatro dello Stabile di Napoli, lo ha designato il Consiglio d'Amministrazione del Teatro con un mandato che avrà la durata di due anni. Nato a Napoli nel 1939, Rigillo vanta una lunghissima esperienza come attore di teatro, di cinema e di televisione. Sostituisce Luca De Filippo, scomparso nello scorso novembre. Un grande del teatro napoletano e italiano, una figura di prestigio che ha intorno a sé certamente il rispetto, la considerazione altissima di tutta la comunità teatrale napoletana, può dare molto ai giovani, può trasmettere un grande patrimonio teatrale ai ragazzi che si formano. Intorno a lui c'è stata un'ampia convergenza che era quello che noi auspicavamo e quindi io ringrazio il Presidente Ferrara, Patrizio Rispo, Famiglietti, i rappresentanti del Comune della Regione che hanno lavorato per questa soluzione che mette la scuola nelle mani di un grande artista e dà comunque continuità a quella grande straordinaria generosità che Luca De Filippo aveva mostrato verso Napoli e i giovani talenti di Napoli.